31 ottobre, siamo riduce dal controllo sicurezza delle attrezzature di bordo, per cui safety check, come lo chiamano. Sapevamo che non sarebbe stato tutto perfetto al primo colpo, abbiamo avuto qualche sorpresa, ma problemi che si possono risolvere. Dobbiamo modificare un paio di configurazioni dei salvagenti, mandare codici di AIS, fare un test di invio video, un test di ricezione radio, test con satellitare, ma diciamo che rispetto a quelle che erano le preoccupazioni e problemi che hanno avuto altre barche, siamo in media e diciamo che è andata bene. Ovviamente bisogna metterci le mani subito perché tornano domani mattina a verificare che abbiamo fatto i compiti a casa.